Ho appena fatto una scoperta tristissima, non puoi arrampicarti sui muri, oh no! Ah non è vero! Non è vero, su alcuni muri puoi farlo, non su tutti allora! Oh no, è ancora peggio! Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saint Row 1, a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata! La scorsa puntata abbiamo iniziato questa serie, scusatemi volevo fare questa cosa Abbiamo iniziato questa serie e devo essere sincero, i comandi sì sono un po' grezzi e la storia è molto veloce ma voglio vedere dove vuole arrivare a parare Ma è davvero divertente Quanto è grosso quella sigaretta, fra E la madonna signora? Eh beh certo, giustamente Grazie Quindi io ti trovo troia e tu mi porti i soldi Rapisci le ragazze dei papponi violenti e portali in salvo per guadagnare denaro rispetto Recluta alcune ragazze per... oh abbiamo anche il tempo, merda E allora aspetta Prendiamo il coltello perché non ho abbastanza... Abbastanza munizioni Grazie della pistola Ahia pezzo di merda Prendiamo il piede di porco Signorina venga con me Signorina anche lei venga con me Ne bastava una quindi va bene Direi che con due ci guadagniamo molto di più no? Siete contenti Forza signorina e venite con me che vi porto da un pappone migliore di quello che avevate Shit, here we go again Ecco qua Pappone livello 1 200 dollari Oella, 2000 di rispetto Per abbandonare la modalità continua la modalità Direi di abbandonarla e proseguire in seguito Hai guadagnato abbastanza rispetto per sbloccare nuove missioni durante il gioco Premi start per visualizzare la mappa Grazie Ma quindi basta che... Ok scusami Va bene vado a dare un'occhiata Trovo la roccaforte di Carnales L'ho vista l'altra volta E qui sulla destra Andiamo alla roccaforte di Carnales allora Oh c'è da dire che comunque A livello di animazione e tante altre cose Perfetto eh Ho visto molto di peggio in tempi molto più recenti Ed ecco il nascondiglio dei Carnales Ehi stronzi Sono venuto qui a fare a botte Forza Dove siete? Shhh Aspetta vediamo se riusciamo Ovviamente no Vediamo se riusciamo a far la step Eh certo Minchia Che menata Aia Oioi Figlio di puta Lo dice tua madre Partiamo da questo presupposto Va bene? E ho già finito i proiettili Come è possibile? Ne avevo dodici due secondi fa Grazie Come faccio a Ricaricare? Con l'A Perfetto Qua c'è anche un boss capo Mi urta un fottio Che non posso mirare come voglio Eh no Eh no State buoni Benissimo Siamo in una missione Devi andare a ammazzare tutti quanti E sei già senza munizioni Direi che sta andando benissimo E il big boss Si trova proprio qui Ma come fa Come mi colpiva Scusami Come faceva Comunque La schermata di morte Più Gioiosa Della mia vita Come faceva a colpirmi Scusami Va bene Andiamo con le maniere forti Questa volta Allora il primo Lo meniamo A piedi di porcata In faccia A piedi di porchetta Gli altri nella stanzina Gli spariamo Eh lo barely felted Certo come no E questi qua Come abbiamo detto Gli spariamo in faccia Vieni qua Headshot Non riesco a colpirlo Ecco fatto C'era Di mezzo Un frigorifero intero No sali Sbrigati Lo stai perdendo Ma perché Lo in rosso Ma scusami Non vedo dov'è Non so dove è andato Help Non so dove è andato Seriamente No scusami Credo sia andato Qua sotto Vero Non so dov'è Aiuto Eccolo Meno male che Che non è andato Tanto lontano Aspetta che Aiuto No 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 Rimani in carreggiata Rimani in carreggiata Che Che questo se lo perdiamo E la fine No 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 L'acqua no Il bastone incredibilmente duro No Lo stai perdendo Aiuto Aiuto Dai Dai che lo mettiamo sotto E' riuscito a schivarla Oh ma ti riuscirò a mettere sotto eh Bastardo Ecco fatto Un paio di volte su e giù E vedi come non ti rialzi Ecco fatto Santo cielo C'è voluto un po' eh Negozio di facciata abbandonato Roccaforte conquistata Possesso totale 2 su 36 400 dollari Beh Non male no Va bene Farò crescere un po' La nostra reputazione Allora C'è da dire Tra l'altro Anche a favore Del primo gioco di Saint Tro Appunto Che Qui c'erano anche i trofei Da sbloccare Cosa che Nel secondo gioco Non so su Xbox Ma almeno su PS3 Non c'erano trofei C'è solo una cosa Che non ho capito Della missione da pappone Ma Se la rifaccio Questa qui Va avanti Visto che mi ha detto Fai il livello 2 Oppure Rifaccio la stessa No Era la stessa Ah no E' il livello 2 Scherzavo Le prime missioni Sono tutte abbastanza vicine Dalla prossima Mi sa che devo iniziare Già a prendere la macchina Se voglio avvicinarmi Eccoli Il nostro meraviglio E' entrata nel taxi Ma magnifico Scusami Ehi pezzo di merda Trattala bene la signorina Che ha anche delle tette importanti Guardala come contenta Forza Ehi ehi Polizia A chi stanno sparando Scusami eh A sto punto Salite in macchina Forza Eh grazie Tanto non la potevo Pezzo di Pezzo di merda Guarda Guarda scappiamo che tanto La macchina era per due Ed era inutile Forza ragazze Venite con me La prossima volta Cerco una macchina Almeno a quattro posti Ma di nuovo La polizia E' apparsa così da nulla Ah no Il tizio di prima Ecco qua Statene un po' buono Santo cielo Signor poliziotto Ehi scusa Scusa Non volevo Lasciatevi in pace Mi hanno lasciato in pace Veramente Di nuovo Ecco fatto Sei morto? Ora si Ora sei morto Ecco qua Un po' di ragazze per te Denaro 250 Rispetto 2005 Posso continuarla? Hai sbloccato Will Hai sbloccato Will Ora puoi chiamarlo Per il tuo cellulare Come aiuto Grazie Will Hai guadagnato abbastanza Rispetto per sbloccare Nuove missioni Che tra l'altro C'è scritto Nuove missioni Oh no C'è scritto Nuove missioni Congratulazione Hai completato L'ultimo livello Della modalità prevista Se giocherai di nuovo A questa modalità Puoi ottenere Una somma di denaro Ma non il rispetto Ok Scusami un attimo Fammi vedere Ok Come faccio a sapere Quale modalità Io ho completato Oppure no Posso vederlo Qui nelle info Ma devo vedere Quindi sulla mappa Dove mi trovo Quindi Arrowgate E dirmi Questa zona L'ho già fatta Oh beh Vorrà dire che Tutte le modalità Le dovremmo sbloccare Pian piano Oh comunque La mappa È abbastanza grandina Non esagerata Ma È abbastanza grande Quindi signori Vi ringrazio tutti Per avermi seguito Come al solito Se mi avete seguito Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi Ci vediamo Alla prossima puntata Ciao a tutti Alla prossima puntata Alla prossima puntata Alla prossima puntata Ciao a tutti